il premio fedeltà sugli addominali quindi arriva a fine video ciao ragazzi come state noi qui in palestra oggi proviamo a fare l'ultimo allenamento della settimana dopodiché riposo totale mi raccomando il riposo sai l'importanza che ha quindi vediamo velocemente l'allenamento di oggi che è breve e intenso come si suol dire ho diviso tre tipologie di HEMOM praticamente quel metodo che se già mi segui vero se già mi segui sai che questo è un acronimo che vuol dire every minute on the minute in sintesi sul minuto devi fare in questo caso due esercizi e quello che rimane del minuto appunto è il tuo recupero così per gli altri tre step quindi questo è l'allenamento di oggi come puoi notare non abbiamo la forza dopodiché abbiamo il workout finale il workout finale oggi è un chilometro di corsa semplice in questo chilometro di corsa è un four time quindi prova a farlo nel meno tempo possibile e se ti va magari mi scrivi i tuoi tempi perché io lo farò quindi ragazzi aggiungere che per oggi abbiamo finito super mario ti saluta io ti saluto anche noi ci vediamo la prossima settimana quindi lunedì rimani collegato perché ci sono un sacco di novità in arrivo quindi se ti va iscriviti al canale o lascia un mi piace e e tu allenati bene ciao Buongiorno! Grazie a tutti. Grazie a tutti.